Salve a tutti, sono Matti per le amiche più intime Matti Oschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a una nuova puntata di Facce da Ciop dedicata a Wrestlemania 40 la recensiremo forse addirittura match per match e visto che è una grande occasione abbiamo un solo ospite, Kirio Buonasera benvenuti, benvenuti Tutti gli altri arriveranno dai, arriveranno Sì, dovrebbe esserci Max gli altri due, riteneteli fuori gioco purtroppo hanno mostrato un filmato di sicurezza l'altra sera con Victor che si accapigliava con Mike hanno deciso di non presentarsi oggi o al limite fanno un'entrata tipo Money in the Bank a un certo punto durante la live dovremmo essere in tre ma iniziamo in due e vabbè, dai alla fine si sta comodi come sta signor Kirio? Bene, bene, bene ho avuto un po' di mal di gola in questi giorni ma mi sto riprendendo quindi tutto bene dai tu come stai? Anch'io bene anche se fare tutto un'ora prima comunque in parte ti disorienta ma ci sono stati degli impegni forse persino settimana prossima potrebbe presentarsi lo stesso inghippo poi torneremo invece ad orari consueti quindi so che hai vissuto Wrestlemania in diretta commentandola sì, sì, sì è stata secondo me mentre io sono stato più casalingo che ci sta comunque io mi diverto sempre a farla con gli amici perché poi come dicevamo anche in live è proprio come se fossimo in una casa a guardarla insieme nell'era di internet si può fare in questo modo fortunatamente perché essendo tutte persone sparse in giro per l'Italia si può fare in live e io mi sono divertito tanto sia per appunto stare in live con gli amici a commentarla ma sia perché penso che sia stata una delle edizioni di Wrestlemania più belle sinceramente parlando per le emozioni che mi ha dato per la qualità dei match per la costruzione per la linearità in modo assolutamente positivo perché la linearità può essere anche la prevedibilità no? però in realtà con linearità intendo proprio il fatto che sia che sia andata dritta dall'inizio alla fine senza sbavature secondo me ci sono stati ovviamente match meno interessanti ma fondamentalmente erano quelli che già si sapevano bene o male che sarebbero stati meno interessanti rispetto ad altri altri sono stati ancora meglio di quello che si poteva pensare in particolare i main event e non solo anche alcuni match per i titoli mondiali e io che le ho viste tutte effettivamente è un meme ma le ho viste tutte le Wrestlemania essendo fan di wrestling da veramente tanti 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 anni dagli anni 90 praticamente poi Wrestlemania ha 40 anni come me e non dico che sia la più bella però probabilmente una delle più belle credo che la metterei tra le mie prime 10 almeno non voglio sbilanciarmi perché poi quelle vecchie andrebbero riviste alcune però sicuramente mi ha dato tante emozioni sono d'accordo con te dunque se dovessi fare il puntiglioso dopo la notte 1 bello ma mi mancava qualcosa che non sapevo definire la notte 2 invece l'ho adorata dall'inizio alla fine ma compreso il match di Bobby Lashley e lo zazzone che è stato un siparietto divertente la seconda notte l'ho trovata veramente impeccabile e nel complesso un'edizione strepitosa poi sì le classifiche bisogna aspettare bisogna lasciarla raffreddare poi analizzare veramente il tutto in modo forse anche un po' cinico e spietato perché sto vedendo tanti creator soprattutto americani che in preparazione alla quarantesima edizione hanno recensito la trentesima che io mi ricordo all'epoca pareva qualcosa di straordinario tra undertaker che perde la storyline di daniel bryan ecco se però la rivedi a parte quelle due cose non c'è altro forse perché momenti che all'epoca ci sembravano strepitosi non hanno avuto prosecuzione quindi anche questa poi andrà contestualizzata però dubito che il voto scenderà di tanto anche perché la qualità sul ring li da vedere non è che è quello il punto cioè allora quello che dice è giustissimo perché se si vanno a vedere delle vecchie western mania magari oggi ovviamente noi tendiamo a dimenticare le cose superflue cioè proprio nell'essere umano è naturale fare così superflue in questo caso le cose che ci sono è arrivato è arrivato ciao max salve max salve salve approfitto dell'interruzione per rispondere ad una domanda quanto hai goduto per drag 1 a farò ero in piedi a far così tantissimo e quindi si poteva godere un po' di più se Gunther fosse ancora campione intercontinentale ma non si può avere tutto da a parte che credo sia stata una comparsata one night holly giusto per dargli una vetrina e capire come il punto in attesa del draft esatto magari il draft darà più smalto ma torniamo a ciò che dicevamo dovevo no niente io stavo dicendo appunto che comunque aveva ragione su quella cosa lì ci si ricordano fondamentalmente i match che ci hanno dato più emozioni poi se guardiamo tutte le card di tutte le vecchie Wrestlemania ci sono quegli incontri magari con gente che neanche è più nella federazione da tempo che ora definiremo dei mezzi jobber cioè nel senso io sono andato ad aprire la card di Wrestlemania 30 che te citavi prima e c'era Cesaro contro Big Show che comunque ora potresti vedere come match come dark match a Dynamite o a Collision c'era Curtis Axel e Ryback per dire quindi è chiaro che quando si giudica poi l'evento in toto si perdono i match migliori però ho l'impressione che per Wrestlemania a 40 sì ci saranno quei match ovviamente che sono di contorno ne abbiamo viste nella prima serata almeno un paio quello con i messicani e quello delle donne 3 con 3 e probabilmente il match di lo street fight Philadelphia nella seconda serata però anche lì abbiamo appena detto che comunque è stato divertente quindi è stato più che altro gli hanno dato la giusta durata secondo me è durato 8 minuti 10 minuti magari convince durava mezz'ora quel match lì e lo ricorderemo con una cosa incredibile invece 8 minuti una specie di siparietto così ci sta e poi c'è quel main event finale che in fondo giustifica tutto sì davvero Max Wrestlemania 40 opinioni così veloci poi magari vediamo i singoli incontri e ci spugniamo tanto abbiamo tempo siamo in tre più passa il tempo e più questa Wrestlemania 40 la amo alla follia durante la diretta durante anche la live reaction sul canale dicevo però la 39 la prima notte della 39 l'anno scorso veramente tanto bella però la seconda notte di quest'anno è paurosa ed è affascinante come quest'anno il più grande dibattito tra tutti noi sia ma questa Wrestlemania può essere considerata la migliore di sempre che è una cosa che non capitava da non è mai capitato probabilmente da quando seguo il wrestling perché in fondo tutti noi sappiamo che ogni anno è difficile poter rivaleggiare con la 17 che sta nell'Olimpo anche con la 19 stanno tutte nell'Olimpo ma quest'anno e con validissime considerazioni si è fatto questo dibattito ma Wrestlemania 40 può essere considerata la miglior Wrestlemania di sempre secondo me non lo è purtroppo però probabilmente nella top 3 potrebbe entrarci ed è una Wrestlemania che guardando poi a posteriori tra anni e anni e anni ripenseremo e ameremo alla follia con una nostalgia in cuore che probabilmente è la stessa con la quale la stessa nostalgia con la quale pensiamo appunto alla 17 è veramente tanto bella e poi funziona a lungo termine si è dato quell'impronta da nuova era ma non stupidotta o finta come poteva essere qualche anno fa perché il new era è stato usato nel 2016 in modo anche quasi parodistico se vogliamo ogni tot anni la WDW diceva siamo entrati in una nuova era ma non è vero non è assolutamente vero quest'anno invece la sensazione c'è si vede ed è marcatissima sono molto contento di Wrestlemania 40 mi sono emozionato tantissimo con il main event finale che considero uno dei main event migliori della storia probabilmente esagerato ricco di interferenze ma chi se ne frega a livello emozionale è uno di quegli incontri che posso prendere e far vedere ad un non fan dicendo vuoi capire cosa mi piace del wrestling vuoi capire come ci si può divertire con il wrestling guarda Cody Rhodes contro Roman Reigns ti divertirai sono d'accordo chiedono già il miglior main event di sempre vediamo iniziamo dalla notte 1 e poi ovviamente arriveremo anche lì beh tutto si apre con Rhea Ripley contro Becky Lynch oltretutto con una Becky a mezzo servizio visto che aveva avuto un febbrone incredibile non stava particolarmente bene neanche quella sera ho sentito parlare di un attacco di panico di Rhea nel backstage però non so se roba vera o faceta ad ogni modo direi che si è iniziato nel migliore dei modi sì ma magari possono aver esagerato su questa cosa dell'attacco di pane forse eri emozionata e hanno un po' ingigantito la notizia potrebbe essere ma vuoi capire magari era perché le hanno detto la tua team song la cantano dal vivo in motionless in white e lei si è impazzita è impazzita poi facciamo il confronto tra i match femminili forse anche io ho preferito l'altro però direi che come opener forse uno dei migliori a conti fatti perché hanno messo contro due wrestler strepitose secondo me c'è stato un ottimo racconto in ring e il finale alla fine è quello giusto per il quizzone no non è vero è proprio giusto anche per la progressione interna io vedo già Liv Morgan pronta e in effetti nel lunedì Aro si è fatta notare no è giustissimo per quello poi ovviamente col fatto che dopo abbiamo visto anche Pristin cassare avere sia lui che Ria campioni è anche una cosa che a colpo d'occhio comunque è significativa averli entrambe nel judgment day secondo me è stato un match solidissimo combattuto che ha visto le due atlete andare a cercare i punti debole l'una dell'altra quindi a livello di psicologia in ring è stato perfetto può non essere stato il miglior match di Vestelmania come magari l'anno scorso poteva essere Ria contro Charlotte ok non è una gara tra match alla fine ogni match fa storia a sé quindi bisogna secondo me prendere il match in sé per sé in quella serata lì in quella storyline in quel contesto e decontestualizzarlo sempre anzi contestualizzarlo scusate quindi riuscire proprio a giudicarlo per quello che è all'interno del momento e secondo me questo è stato un match ottimo fantastico mi ha emozionato e poi come match di partenza è stato quello che ci voleva proprio per per darci una carica incredibile secondo me uno dei migliori della prima sera sicuramente per me personalmente insieme al main event il migliore addirittura adesso della prima sera per me ce n'è uno migliore oltre al main event capisco quale sia e ci sta ci sta lì forse sono rimasto un po' deluso dal finale tra virgolette Max che ne pensi di questo inizio gran bell'opener è incredibile a dirsi ma è neanche il migliore opener del weekend ma ne parleremo tra poco è vero gran bell'incontro solido se poi pensiamo al fatto che Becky stesse lottando con un mal di gole e qualche linea di febbre dici mamma mia incredibile come si era riuscita ad incastrarsi così bene c'è quel frangente in cui Rhea ha sulle spalle Becky per electric chair e fanno lo spot a livello mentale stupidissimo di catapultarsi assieme fuori dal ring e cadere in piedi con Rhea sempre in spalla Becky le riesce da dio e se voi ci fate caso guardando le immagini c'è Rhea che nel momento cade in piedi si lascia andare con un urlo liberatorio sorridendo proprio contenta di essere riuscita a far bene lo spot mi è rimasto impresso quel frangente è molto bello e vittoria giustissima di The Replay mi sarebbe piaciuta vedere la scena di Becky che le alza la spalla ma probabilmente i tempi non sono ancora maturi per quella scena e per l'ammissione della sconfitta da parte di The Man vediamo cosa faranno con Liv Morgan dato che due sede dopo a Roll l'ha attaccata come pensavamo comunque stanno andando nella direzione di Liv sfidante secondo me sempre più ilish sempre più cattiva e Rhea per ovvi motivi sempre più acclamata dalla folla sempre più apprezzata nella sua bravura andrà prima o poi a staccarsi dal resto del Judgement Day per diventare una figura a sé stante la mami da sola ma perché è troppo grande per star confinata all'interno della stable e restare confinata all'interno dei ranghi delle cattive lei ormai una buona fatta è finita anche battendo Becky Lynch non ha dovuto rubare non ha dovuto fare niente semplicemente si è dimostrata più forte sì non so quali saranno le tempistiche ma io penso che sarà Liv Morgan poi a sconfiggerla ovviamente in modo controverso probabilmente con il tradimento di Dom già in canna ma succede succede poi abbiamo il match per i titoli di coppia che abbiamo previsto nel minimo dettaglio un ladder match divertentissimo io mi sono proprio divertente è proprio la parola giusta tanti tanti spot tanti cambi di fronte Grayson Waller che muore davanti ai nostri occhi e non lo vedremo mai più no non è vero anche J.D. McDonagh J.D. McDonagh si prende una schienata anche la parte del collo su quei tavoli che mamma mia tutti hanno avuto il giusto spazio Artruth di nuovo sugli scudi è giusto questo ha fatto ha fatto esattamente quello che doveva fare come match divertentissimo veloce non c'è stato veramente un momento di pausa abbiamo esultato con Artruth che prendeva le cinture sono stato contento anche per ovviamente Grayson e Waller che se non se lo meritano molto Grayson e Waller che sono poi la stessa persona Grayson e Waller è Austin Theory e quindi anche questo match è stato molto divertente certo non è stato il match tecnico della serata ma ovviamente nessuno se lo aspettava è stato un match con 12 persone all'interno del ring poi è venuto anche JT insomma lì era chiaro che non sarebbe stato un match pulitissimo però ci sono stati tanti bei spot niente di particolarmente innovativo magari come spot sulla tavola sulla scala scusate però molto molto interessante ho avuto quasi paura quando c'è stato quello spot dove si stava rompendo la scala e l'arbitro che stava cercando di interrompere dei nempliste secondo me sì sì l'ha fermata l'ha guardata malissimo ma credo gli abbia proprio gli abbia proprio detto guarda la scala attento sì sì ma lui ha detto no vabbè ma non possiamo interrompere il match così sono qua da solo nel ring e che faccio putto via sta scala e ne prendo un'altra sarebbe stupido anche se insomma nell'ottica del match però avrebbe rischiato tantissimo a livello proprio di sospensione dell'incredulità ha fatto bene Priest perché naturalmente sarebbe proprio stato totalmente anticlimatico prendere la scala cambiarla sono riusciti poi ad aggiustarla con Artroot che gliela passava da fuori però sì hanno fatto bene alla fine hanno rischiato è quello che fanno in ogni match comunque molto molto bellino anche questo e ci sta soprattutto il finale sono d'accordo Max sono contento che la divisione delle cinture sia stata quasi obbligata dalla compagnia che non sia stata frutto dell'artrutata che un po' temevamo le hanno separate tantissimo le quattro cinture quindi ad una certa veniva da sé che per sganciarle richiedevano due diverse operazioni ed è andata bene è andata bene sono contento di Io sono trutta Artroot nel momento in cui credeva di lottare un match normale ha chiesto un cambio a Demisa e pensava anche di aver vinto un incontro a questo servizio di wrestling fantastico e sorprendente la vittoria di Waller e Theory che francamente non mi aspettavo loro due che secondo Dave Meltzer erano quelli più papabili ad essere tagliati fuori non si sa perché per far posto ad una coppia a sorpresa e invece hanno vinto almeno adesso abbiamo due divisioni di coppia ben distinte ce n'era bisogno i tag team sono tanti in questo periodo sia Raw che SmackDown e hanno preso la decisione giusta sì anche io sono felice perché era giusto dare un po' di respiro alla categoria sperando che poi le sfruttino bene ma immagino di sì beh sì soprattutto anche SmackDown ce ne hanno di sì c'è un sacco di materiale che possono fare c'è anche un'ipotetica coppia che può formarsi tra due della seconda notte in realtà che mi sembra abbiano un'ottima alchimia e non li vorrei vedere subito contro magari prima il triple threat dici bravo bravo eh beh sì sì ci sta ci sta non penso che vincano i titoli ma come come sfidanti ah tu dici sì secondo me potrebbero potrebbero non nell'immediato facciamo tra due mesetti sì magari per portarli a uno split e farli feudare contro sì sì ci sta effettivamente ci potrebbe starci anche poi abbiamo un titolo a Owens finalmente per aumentare il prestigio delle cinture andrà De Rai Mysterio contro Dominic Mysterio e Santo Cescobar qui francamente penso ci sia il primo tentennamento non che sia brutto però non è stato neanche strepitoso un po' da show settimanale un match da Smackdown anche è il tipico incontro Lucia è il tipico incontro da Lucia libre perché hanno fatto un sacco di manovre ritmate passatemi il termine senza pausa e Ray Andrade soprattutto in coppia hanno lavorato bene con un sacco di mosse combinate però è il tipico incontro di Lucia che alla fine in ring non racconta molto ti diverti per i salti e le mosse ma a parer mio a rovinare tutto è il finale sarà che io di football non capisco nulla non so siamo in due non sapevo nemmeno chi fossero però è una comparsata troppo esterna alle storyline e troppo limitata a quella che è la città ospite in questo caso Philadelphia sono due giocatori dei Philadelphia Eagles spuntati fuori dal nulla senza alcuna motivazione senza averli mai visti prima mi spiace ma no onestamente no tra l'altro e probabilmente incide sul mio giudizio io credo che almeno in questo caso abbia vinto la coppia sbagliata mi rendo conto che c'era Andrade da lanciare quindi non solo al momento in cui hai quei due ospiti devi far vincere i paesi non avevamo considerato gli ospiti ci mancherebbe però Dominic che perde un'altra volta Wrestlemania è proprio una strada senza uscita poi sicuramente andranno avanti diciamo che molto spesso Backlash è un more of the same col risultato diverso però boh comunque non è stato un brutto spettacolo semplicemente qualcosa non è andato per il verso giusto per come lo intendevo io quindi un giudizio estremamente soggettivo me ne rendo conto no no io sono d'accordo non dovevano esserci quei due tizi alla fine dovevano vincere doveva vincere Dominic e basta l'inizio del match è stato molto buono secondo me soprattutto da parte di Andrade ho visto diverse cose interessanti a livello tecnico molto molto buono però appunto come diceva anche Max quel finale lì magari ti può piacere se sei di Philadelphia letteralmente esatto quindi boh anche perché è stato l'unico momento del match in cui ho potuto sentire una reazione nella prima notte specialmente c'era un problema di acustica c'era davvero un problema di acustica non si sentiva niente dello stadio non si sentiva nessuna reazione però hanno esultato vedendo questi due giocatori di football uno ex e uno attuale giocatori di football di Philadelphia non sono di Philadelphia purtroppo quindi mi è passata sopra la testa come citazione come comparsata tra VIP no ma poi sai dicevi bene prima perché sono comparsi dal nulla cioè se fossero gente che gli avessero fatto fare due o tre apparizioni a Smackdown dicendoci chi sono come mai vogliono aiutare Ray allora uno dice magari si sente un minimo coinvolto li ha visti un paio di volte o se fossero degli attori comunque di Philadelphia però che tu hai visto in qualche film mi conosci letteralmente se sei di Philadelphia e se segui quello sport lì quindi è un po' troppo sì anch'io mi aspettavo il tradimento di Carlito che probabilmente arriverà perché con l'infortunio di Dragolli a me puzza ma tanto ma tanto con lui lì sulla scena che chiama gli altri forse farlo a Wrestlemania abbiamo capito che tendenzialmente vogliono proporci dei finali netti quindi il tradimento è più un angle da sciù settimanale non so se già stanotte peraltro forse è presto poi c'era già questa cosa dei due giocatori quindi magari c'era già quel sicuretto alla fine la variabile VIP ha cambiato tutto si può anche il pubblico effettivamente nella prima notte dicono colpa del meteo perché erano tutti congelati potrebbe può essere io sospetti anche per l'acustica dello stadio perché anche la notte 2 sebbene molto più calorosa non ha paragone con la reazione di Ro da parte del pubblico a Ro hanno fatto un casino incredibile e sono sempre loro perché sappiamo che il pubblico che si fa che si fa tutto si compra il pacchetto però ti dico che il freddo può influire che io quando ho freddo glaciale in quel modo lì non riesco a parlare non riesco a aprire bocca mi frizzo letteralmente infatti la notte 2 è stata di gran lunga superiore anche sotto quell'aspetto sì 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 in dubbio in dubbio in dubbio proseguendo abbiamo oh per quello che vi ho detto che la notte 1 un pochettino qui si arriva alla delusione della serata J Uso contro Jimmy Uso che dopo quel video packaging io mi sono detto ah aspetta forse il video era il più bello della serata probabilmente ma quindi c'è una storia con questi due si può raccontare qualcosa non l'hanno fatto per otto mesi però si può raccontare qualcosa con J contro Jimmy anche se in chiave marca mi fa sempre ridere pensare che li abbiano chiamati entrambi sul set che questi si volevano scannare li hanno messi schiena contro schiena dai dite queste belle cose sì ma tu considera che hanno fatto anche delle interviste insieme nei giorni prima di Preston io ho visto delle interviste su SPN dove loro sono insieme con l'intervistatore nel mezzo ovviamente gli scappa anche da ridere un paio di volte però sì il video era fighissimo infatti sono d'accordo con Max che hanno sprecato un'occasione di fare quello che hanno fatto nel video durante la costruzione e poi durante il match c'è stata questa fiera di superkick che sarà durata 5 minuti cioè neanche in un match degli Young Bucks ho visto una roba del genere capisco farlo magari una roba di 20 secondi un minuto dove ti prendi al superkick perché comunque è una mossa che contraddistingue tutte e due da sempre è ok però mi è sembrato un po' too much un po' too much e poi anche la costruzione sì è vero che c'è stato un po' di emozione quando Jimmy ha fatto finta di Redeemersi AJ è rimasto lì un po' titubante però quanto è durata anche sta cosa 10 secondi e poi si è tornati al match che stavano facendo fino a poco prima non mi ha dato veramente nulla e anche a livello tecnico un match molto normale purtroppo è vuoto anche la scena di Jimmy che tenta il tranello della pietà è di un banale nel senso che il pubblico non se la beve non se la beve nessuno è anche molto forzato il modo in cui Jay si piega di buon cuore ma sì perdoniamola braci risate è tutto troppo chiamato ed è una singola goccia in un oceano di vuotezza è privo di pathos non c'è nulla a livello di personaggi non c'è stato un coinvolgimento familiare non solo nel match ma nell'intera storyline è una grossa occasione sprecata e mi viene da dire magari se andranno avanti con la stipulazione speciale con più libertà potrebbero offrirci uno spettacolo migliore perché diciamo le cose come stanno Jimmy e Jay con tutto il bene di questo mondo non sono né Brett né Owen Hart non potevano farci il bel match d'antologia uno contro uno puro tecnico non fa per loro magari con una stipulazione speciale possono fare di meglio però resta lo smacco di questo primo tassello in ring della loro faida che è deludente non è un brutto incontro non è un qualcosa che passerà gli annali come tremendo orrendo no però è deludente è assolutamente deludente infatti volevo arrivare al momento della redenzione suggerita con ulteriore tradimento non è stata costruita non abbiamo visto nel corso delle ultime settimane un Jay che voleva a tutti i costi fare pace un Jimmy magari tentato e quindi tu spettatore puoi essere ingannato crederci veramente per un istante ci sono le premesse che rapprese che ci sarebbe stato il colpo di scena per modo di dire perché anche il pubblico l'aveva chiamata lontanissimo e un'altra volta penso abbia vinto l'uso sbagliato posto che andranno avanti parlando dei risultati di Raw Jay contro Damien che Jimmy torni ancora una volta a rompere le balle quanto è quotato anche se è una dinamica un po' ripetitivo oramai stancamente sì nessuno si aspetta Jay che vinca quindi voglio dire ecco sì 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 vabbè abbiamo superato il momento di stanca credo perché secondo me già il Six Women Tag Team con Bianca Belair Jade Cargill Naomi contro Dakota Kyle e Kabuki Warriors è semplicissimo probabilmente anche questo da show settimanale ma qui serviva presentare per bene Jade e secondo me ce l'hanno fatta è stato un siparietto quello che doveva essere c'è donato otto minuti alla fine bello scorrevole quello che doveva fare l'ha fatto sì 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 tranquillo sì c'è poco da dire ha fatto quello che doveva fare semplicemente con il rischio di suonarvi esagerato è perfetto per ciò che doveva essere è semplicissimo nella dinamica le damage control che tengono ferma Naomi Naomi si libra dal cambio a Bianca Bianca sbaraglia tutte viene messa in difficoltà e allora dal cambio a Jade Cargill che deve risultare come la più forte del mucchio e ci riesce bene alla fine per quello che ha fatto vedere non ha fatto sbavature ed è risultata come la next big thing femminile la tempesta incombente la tempesta è effettivamente arrivata nella divisione di Smackdown positivo positivo e ci risolleva dopo quella fase calante centrale non brutta però calante sì sono d'accordo procediamo questo per me forse è il match della serata ci sta ci sta ci sta Temis incontro Gunter possiamo aprire un'incredibile parentesi sul risultato finale ok però me lo sono goduto e lungo e largo dal primo all'ultimo secondo e quando ha tirato fuori la brain basta va bene ti meriti di vincere il match è stato granuloso sia a livello tecnico che con costruzione sì sì io ho adorato anche ancora prima che salissero sul ring perché quell'ingresso di Zayn non si tratta di un'entrata speciale però il fatto che incontri tutti la moglie il figlio Chad Gable Kevin Owens che per gasarlo gli molla prima un abbraccio e poi uno schiaffone in faccia avrebbe scosso un pochino ce la puoi fare possiamo farcela tutti quanti insieme è un gran bell'incontro cioè l'epopea dell'underdog è fantastica trassuda anche l'arroganza della ring general già vista perché durante la mattanza tra una cioppe e l'altra si gira verso la moglie di Zayn hai visto che gli faccia gli adò più forte la prossima fantastica ha anche mostrato un lato di Gunther inedito se vogliamo perché l'abbiamo visto sempre severo tutto d'un pezzo qua l'abbiamo visto sorridente che si godeva al suo stesso massacro è stato comunque bello nella sua violenza e il verdetto dividerà io non l'avrei fatto il cambio di titolo non l'avrei assolutamente fatto però è anche vero che hanno creato un Wrestlemania moment e Zayn adesso si porta sulle spalle una grande vittoria si porta l'onore di aver interrotto un regno fenomenale quello di Gunther e vediamo cosa succederà in futuro mi spiace perché speravo che per Zayn ci potessero essere piani più sostanziosi titoli più succulenti il titolo mondiale dei pesi massimi attraverso la valigetta ne ho parlato a lungo nelle scorse settimane quindi vediamo quello che succederà però come momento ha fatto sicuramente centro la vittoria funziona i festeggiamenti con la moglie è bello è davvero un gran bel incontro un gran bel momento vediamo come rimbalzeranno entrambi uno dalla vittoria e l'altro dalla sconfitta di questo incontro vedo il pubblico in chat diviso posso capirlo ma ad esempio Gable meritava di più ragazzi è palese che ci sarà un tournil di Gable e probabilmente lo vince credo sarà il prossimo vincitore glielo dice nel backstage mi devi un favore sì secondo me lunedì prossimo forse perde ancora Gable ma dopo non penso che la storia la infinisca lì sì diciamo che non è la stessa cosa vincerlo da Zayn o vincerlo da questo regno di Gunther però magari gli rifanno il personaggio molla l'Alpha Academy io sono io me lo sento che si unisce con i Creed Brothers io me lo sento proprio che lo fanno il trio sì 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 Gable e i Creed e allora probabilmente ci si diverte e poi quando bisogna interrompere una streak lo so che in linea di massima si pensa sempre al giovane da lanciare oppure al personaggio a cui dar la consacrazione però ascoltando un po' di podcast a volte non si vogliono correre questi rischi vogliono andare sul sicuro e Zayn una garanzia e secondo me anche una consacrazione ulteriore perché guardate che dopo aver vinto le cinture nel Menevente dell'anno scorso questo per un anno non ha fatto un cavolo quindi una dimostrazione di stima di fiducia di guarda che magari avrai dei momenti di bassa marea ma ti teniamo in conto quando ci sono i momenti giusti per noi si è importante quindi per me è stata un'ottima alla fine è stata una buona scelta probabilmente anche io avrei fatto vincere ancora Gunther va bene però a posteriori non mi ha dato così fastidio anche perché non sappiamo cosa vogliono fare con Gunther può influire il fatto che questa vitra di Zayn sia arrivata non dico dal nulla però dopo una costruzione frettolosa di soltanto due settimane questo influisce questo influisce noi che pensavamo già a Gunther contro Lesnar per WrestleMania ci siamo ritrovati un Zayn ha messo lì come rimpiazza che per di più va anche a vincere però anche lì volendo proprio scavare in realtà era da almeno due mesi che ci parlavano di un semi Zayn in fase calante che cercava riscatto c'è stata una breve losing streak poi la vittoria poi e il frangente con Gable è stato frettoloso lì avrebbero potuto allungarla con sì sembrava l'allenamento di un Super Saiyan letteralmente che in un giorno impari il super truccone per vincere contro Freezer però non riesco ad essere severo nonostante non avrei voluto neanche io non vale la pena lamentarsi per questo no no anche perché comunque mi hanno catturato cioè comunque ha perso contro Zayn che per quanto mi riguarda è un grande il wrestler è un grande tutto quindi non è che ha perso contro Ellen Knight e allora siamo qui a a maledire questa edizione di Wrestlemania come sarebbe successo in quel caso e mi rendo anche conto che si tratti veramente di una chicca per mega iperintenditori ma il fatto che per vincere abbia tirato fuori una manovra che non faceva da secoli come a voler ricorrere proprio ma che boccia allo stremo come quello per me io non ci potevo credere quando l'ha fatto giuro giuro allora va bene dai vinci ma che cazzo ti devo dire il fatto che anche Michael Cole l'abbia sottolineata orando sì sì fantastico torna a Scimus è vero è vero sono contento eh lui per esempio potrebbe essere anche ora non so se torna illo face penso face all'inizio almeno il promo sembrava da face però non si sa mai potrebbe lei può sempre andare per qualche titolo ovviamente ha lo status per andare per qualsiasi titolo main event The Rock e Roman Reigns contro Cody Rhodes e Seth Rollins è durato tantissimo ma io me lo sono goduto questo è andato proprio ben oltre le mie aspettative sinceramente assai 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 forse l'unica fase che avrei evitato è la scazzottata in mezzo al pubblico che non ha sussulti molto fino a se stessa per il resto visto che da The Rock ci aspettavamo un dramma direi che ce l'hanno fatta pensa però al pubblico che era lì nello stadio che si vede The Rock e gli altri scazzottarsi a mezzo metro si è anche preso il rischio della mossa sul tavolo comunque lui lavora ad Hollywood se si infortuna alla fine quindi si è messo in gioco al 100% credo che le varie fasi siano state bene raccontate il risultato era quello che sapevamo ed è giustissimo quindi si mi aspettavo forse un ritmo ancora più pachidermico un po' lento un po' e invece bello 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 e non pensavo che fosse durato così tanto mi sono stupito quando poi ho visto 44 minuti il secondo main event più lungo della storia di Everest in Mania mi sembra di aver capito una qualcosa del genere dopo l'Ironman sicuramente non ne ricordo altri così tanto lunghi quindi nessuno se lo sarebbe aspettato per The Rock ma anche per Roman che comunque non è uno di quelli che fa match lunghissimi solitamente è stato emozionante è stato emozionante anche qui hanno fatto diverse fasi e lo hanno reso molto variegato per quello prima fase sul ring un pochino lenta ovviamente di inizio di carburazione fase tra il pubblico che secondo me invece c'è stata non ci sono stati ovviamente gli spot che potevamo aspettarci dagli Hardy Boys o da Shane McMahon chiaramente però quello che dovevano fare l'hanno fatto e poi l'ultima l'ultima parte sul ring è stata tanta roba tanta roba emozionante andare nel pubblico non è stato improvvisato sul momento perché c'erano già gli oggetti pronti c'era già il bidone non esiste tutto pianificato al mille per mille non esiste al mondo una cosa del genere figurati anche perché la sicurezza deve saperlo deve cominciare ad allontanare no 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 si sapeva si sapeva e voi dite ma se ha incassato guadagnato così tanto ci stava che si prendesse qualche rischio non tutti l'avrebbero fatto fidate non è necessario soprattutto per lui che ora ha un altro film appunto ora dopo in questi mesi e penso che prenda anche oltre 40 milioni di dollari quindi è come se The Rock abbia tirato fuori tutti i rischi tutta la fatica che per questi ultimi quanti 11-12 anni si è tenuto dentro lui che dopo Wrestlemania 29 quando si strappò tutto lo strappabile dal petto affrontando John Cena non ha più fatto niente se no una singola mossa a Wrestlemania 32 batteric rowan in 4 secondi è il match più corto nella storia di Wrestlemania e poi si è sempre limitato a apparizioni per fare giusto Rock Bottom e People's Elbow e l'abbiamo visto inizio anno con Jinder Mal quanto facesse fatica poi a parlare dopo quelle mosse ma che mi sedo io capo tavola non aveva il fiato eppure cavolo questo match ha incinerito tutte le critiche in questo match è stato tanto bravo e bello a livello emozionale di trascinamento del pubblico pathos poi è ricco di intrecci la scena di Roman che spezza in due il cugino con la spia Rock che usa la cintura per bloccare le tre crossroads di Cody è ricco di bei momenti è molto ben farcito e ce lo si gode nonostante la durata oggettivamente grande bello bello mi è piaciuto molto più rispetto a quanto avrei potuto pensare ma seconda serata Drew contro Seth ovviamente per il titolo World Heavyweight a che inizio scoppiettante bello bello tutti i punti di vista si avevano caricato le finisher quindi hanno fatto un match truccato a livello facile hanno usato i cheat si finisher infinita la Smackdown vs Raw e via secondo me l'inizio di questa seconda serata è perfetto per descrivere quanto certa gente non capisca un cazzo di wrestling perché ti dico perché nel senso che io ho dato i miei voti a questa seconda serata ovviamente e ho dato dei buoni dei buonissimi voti sia al primo match che anche al segmento proprio dell'incasso di di Priest e molti mi hanno detto non puoi dare un voto così alto al primo match perché sono tutte finisher e qui dimostri di non capire assolutamente nulla della psicologia di un ring delle storyline di come si costruisce una faida e al secondo proprio non capisci che non è solamente il pin il match è anche tutta la costruzione come ci si arriva il pathos il momento tutto quello che c'è intorno e secondo me è stata una costruzione geniale forse il migliore incasso del money in the bank da quando esiste la stipulazione quindi cerchiamo di capire e lo dico anche al pubblico che il match non è solamente le azioni che fanno il ring ma quello che si racconta altrimenti non sarebbe pro wrestling non sarebbe sport entertainment è gestito in maniera ineccepibile c'è poco da dire hai la tracotanza di Drew che sa che sta lottando contro qualcuno che la sera prima ha lottato per 44 minuti e ci va giù a spada tratta permettetemi dato che lui comunque la spada la usava e è ovvio che voglia chiudere addirittura ha il tempo di andare vicino alla moglie prendere il cellulare e fare un tweet mi sto annoiando a lavoro poi ovviamente ha risposto a quel tweet dicendo cazzo è andata male è andata male però è ben proposto è incalzante si ha la sensazione di assistere alla sfida tra uno che ha appena fatto la maratona e uno che ha appena fatto un sonno rigenerante è bello il contrasto tra i due e ci sta che vadano a mille con le finisher e anche l'incasso è incastrato benissimo McIntyre che va a festeggiare con Punk e quanto è stato bello il momento di McIntyre che si ha la cintura in mano fuori dal ring e poi ci mette quanto quei due minuti a voltare lo sguardo verso CM Punk perché si gode ogni singolo istante prima di andare a sbattergli la cintura e qualcos'altro in faccia ovviamente tutto si ritorce contro Punk lo attacca togliendosi anche il tutore quindi bel momento perché non ce l'aspettavamo un coinvolgimento fisico così massiccio da parte del best in the world e favorisce l'incasso di Damian Priest sono contento che l'incasso sia andato a buon fine perché almeno così il tasso di successo della valigetta resta alto e è apparso come una minaccia McIntyre non ha tenuto conto di tutte le possibili varianti e ne ha pagato le conseguenze la valigetta è tornata ad essere una minaccia appunto per il campione in carica sono d'accordo anche se per me Drew avrebbe meritato maggiore giustizia ha senso per la storyline per il personaggio per tutto considera che avrà un titolo in più nel suo Valbares e secondo me lo rivince anche dicevo quello nel senso oltre a quello che li rivincerà probabilmente a Clash at the Castle avrà un titolo in più il momento avresti il mania l'ha avuto con i fan perché comunque quando fanno i video package lo potranno comunque mettere quando sarà face e quindi ci sta cioè a livello di costruzione io non avrei fatto diversamente per quanto anche io volevo la vittoria di Drew eh assolutamente però sì ma alla fine l'ha avuta sì esatto esatto non mi posso lamentare continui bene la storyline continui bene il discorso di McIntyre in lotta contro il mondo consumato dal suo stesso rancore dai l'opportunità Priest che altrimenti sarebbe stato difficile da incastrare sia prima che dopo Wrestlemania con un titolo mondiale alla vita e poi abbiamo l'evento in Scozia il 15 giugno se non ricordo male a Glasgow dove lì effettivamente McIntyre potrà lottare davanti ai suoi reali connazionali secondo voi Seth dove andrà a parare? per me non lo vediamo per mesi mesi sì anche Becky non mi sorprenderebbe rivederlo Survivor Series o persino Royal Rumble ragazzi poi magari esagero e già SummerSlam fa cucù Royal Rumble un po' tanto secondo me però dipende anche quanto è grave cioè quanto comunque gli faccia male le ginocchie e tutto SummerSlam minimo secondo me minimo SummerSlam direi e forse anche Becky farà la stessa cosa sì 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 non tornatelo più face a Drew ma prima o poi lo diventa lo diventa già adesso tutto sommato poverino lunedì a row un'altra volta secondo me un po' di tifo ce l'ha sta diventando CM Punk Lil no non è vero lo stanno portando avanti perfettamente però anche sta cosa è fatta troppo bene poi vabbè Punk che fa le foto da sotto al ring non so se l'avete visto ha fatto la foto a Cole sotto al ring è bellissimo è il in AW CM Punk allora qui voglio un momento di raccoglimento perché sì c'è la storia di Cody Rhodes ma doveva chiudersi un'altra storia molto importante quella del Final Testament e purtroppo non ce l'abbiamo fatta purtroppo per colpa di un arbitro venduto Bobby e gli Street Profits hanno trionfato su Carrion Cross e gli Authors of Pain dei pipponi ma perché 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 allora divertente è stato divertente si sono mazzolati per bene c'è stato Babba che ha fatto la sua parte ma il senso del Final Testament con gli Authors of Pain che sono rimasti fuori dal ring per mezz'ora c'era Carrion da solo Carrion è rimasto lì da solo per una vita questi hanno avuto tempo di cambiare il tavolo perché il primo si è spaccato e fuori c'erano questi due gigantoni così ma dai vabbè beh il match che doveva essere un po' celebrazione della ECW Babba Ray avrei cercato di chiamare qualcuno in più una comparsata di Tommy Dreamer Harvey Dico col cannone che arrivava tutto stonato qualcosa di più ci poteva stare ma poi sarebbe stato troppo simile al min event con tutti i camei eh vabbè ma impazziva il pubblico se gli facevi entrare Sandman con la birra spaccata in testa lo vedevi il pubblico è impazzito si sciolgono stanotte quelli del Final Testament vero? io spero le licenzi no no preparatevi che vanno avanti voi preparatevi eh ma non a Smackdown sono già sparsi a NXT li hanno già retrocenzi ah non ho ancora visto il finale ah vabbè sapessi che che grande colpo di scena quindi sono retro ah non lo sapevo ragazzi come se nulla fosse come se nulla fosse vanno ai next sono a metà puntata oddio che va bene va bene ma no non sarebbero un team della madonna me o patacca scusami non è che mi rovina cross ma per capirci è proprio un trasferimento era tipo one night only puntano ai titoli di coppia ah ok non vi preoccupate tanto figuratevi che spoiler va benissimo occupava uno spazio e basta Smackdown che tristezza ok ciao final testament e le night contro AJ Styles per me la sorpresa la sorpresa bravo bravo è la sorpresa tanto è vero che l'avrei voluto più lungo quando è finito mi è dispiaciuto no secondo me come durata è andato bene poteva essere anche un po' più lungo sì però mi hanno sorpreso e soprattutto Ellie Wright proprio perché AJ Styles comunque te l'aspetti che faccia il bel match anche se poi a Best of Men non è che abbia fatto quasi mai grandissimi match però davvero mi hanno sorpreso mi ha sorpreso l'alchimia tra i due mi ha sorpreso il fatto che comunque non abbiano mai smesso di fare delle belle interazioni all'interno del ring e la stipulazione che abbiamo sperato per tanto tempo avrebbe rovinato l'incontro secondo me il chair match perché alla fine il chair match è proprio un match osceno secondo me che tutti dicevamo vabbè però è stupido magari gli dai questa stipulazione aiuta un po' perché tutti pensavamo sarebbe stato un match osceno e invece no è stato molto 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 figo e quindi secondo me Ellie Knight adesso può andare tranquillamente per il titolo degli Stati Uniti di Logan Paul arrivare a SummerSlam ci vorrà ancora un po' di tempo magari è esatto magari SummerSlam lo punti lì lo punti lì con SummerSlam più che altro io sono contento che questo incontro sia stata la maturazione fisico-sportiva di Ellie Knight è quel tipo di incontro in cui fa valere di che pasta è fatto che non è riuscito a fare in Arabia Saudita contro Roman Reigns e aveva bisogno di farlo specialmente se è lanciato in uno scenario così tanto importante come la lotta al titolo indiscusso del capo tribù quel match in Arabia secondo me è una brutta bocciatura qua con Styles ha fatto molto molto bene si sono intrecciati sorprendentemente bene mi ha sorpreso non poco anche io finalmente forse per la primissima prima prima volta mi sono sentito trasportato dal dal calore dall'entusiasmo di Ellie Knight finalmente guardando il suo match ho potuto dire capisco perché piace così tanto che bello far parte di questo movimento che bella la sciura che si prende la chiave della macchina dove sono? cosa sto facendo? voglio dire ma tra tutti sono morto da ridere la Slim Jim Mobile sì 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 veramente veramente pregevole dai anche io speravo in AJ Styles però non puoi far perdere Ellie Knight in prospettiva anche perché AJ magari lo vogliamo come avversario di transizione per qualcuno arriva tira una sediata è già pronto non è che abbia bisogno di troppe troppe scuse o convenevoli e Ellie Knight invece ha bisogno di vincere di avere una streak positiva perché poi effettivamente credo che ci sarà Logan Paul nel mirino da abbattere una volta per tutte e infatti Logan Paul contro Kevin Owens e Randy Orton bello anche questo per me bello sì sì assolutamente molto divertente non ci si poteva aspettare diversamente anche da questo secondo me molto molto figo e Owens e Orton hanno un'alchimia inaspettata c'è Orton che si diverte come un patto io forse non l'ho mai visto così solo per l'entrata con Gerico con Gerico è più o meno è più o meno la stessa dinamica che aveva con Gerico se vogliamo però molto più esasperata si diverte perché con Gerico era quello serio qua invece si sta lasciando trasportare e ne parlavamo poco fa ne parlavamo poco fa gli Archeio nome geniale potrebbero continuare la faida con Austin Theory e Grayson Waller dato che sono loro i nuovi campioni di Smackdown di coppia ovviamente e vedere cosa succede perché sono un paio di anni che Randy Orton lo mette in squadra o comunque lo fa interagire con questi lottatori più giovani e si diverte tanto è successo con Riddle con gli Archei Bro sta succedendo anche con Kevin Owens che per carità giovane non è è vero però è comunque di un'altra generazione e si sente trasportato da questo probabilmente il fatto che sta lavorando con gente inedita sta facendo il ruolo di quello che manda avanti il nuovo che avanza e permette ai giovani tra mille virgolette di ritagliarsi un bello spazio verissimo Logan Paul fa sempre il suo si conferma si conferma alla faccia di quelli che dicono ah lo youtuber vabbè oggi sono un po' polemico con la gente ma perché infatti anch'io anche io riesco a fare quelle cose tutti gli youtuber tutti gli youtuber si si siamo nati così siamo equipaggiati e no vabbè bello bello questo ci si aspettava bene o male un po' tutti che sarebbe stato un bel match così è stato infatti si conferme conferme Bailey contro Yoskay ancora meglio ancora meglio si si e prima c'era la gara tra match femminili anch'io forse ho preferito questo anch'io si io l'avevo però spiegato come un probabile match della serata effettivamente al netto del main event comunque è stato un gran match questo qui allora se togliamo il main event però c'è Drew contro Seth si allora diciamo che questo a livello tecnico è stato meglio nel senso che Drew contro Seth per il racconto questo è un match più tradizionale dai si questo è stato stupendo veramente stupendo si si è vero non ho capito la conversione di Bailey alla cultura egiziana l'hanno spiegato un attimo al commento mi sembra che sia cresciuta in una zona dove c'era un museo egizio però credo sia appassionata a lei piace lei ha sulla nuca il tatuaggio non sono esperto l'occhio di Horus correggetemi ha un tatuaggio sulla nuca è molto fissata per quell'aspetto le piace si è stato un po' improvviso che sta succedendo vabbè come Rollins che cos'era cos'era Rollins ah oddio non abbiamo parlato dell'entrata di Rollins che trash credendo che fossero a New Orleans il carnevale esatto che trash sembrava un mix tra il carnevale di New Orleans e la festa dei morti messicana c'era Drew allibito però vabbè che avrebbe vinto Bailey lo sapevamo ma è stata una soddisfazione meritato meritato dir poco se non ci fosse stato tutto lo star power che c'era nei due main event di questa Vestelmania di entrambe le serate dico per me Bailey contro io Sky si meritava il main event come match incredibilmente figo molto molto figo e anche per Bailey che sinceramente è una di quelle che tifo dall'inizio da NXT quando fece dei match i match con con Sasha Banks ancora me ne ricordo e quindi conferma assoluta per Bailey che si dimostra uno tra le media di wrestler di sempre togliendo proprio qualsiasi genere di mezzo arriviamo al main event Cody Rhodes contro Roman Reigns Bloodline Rules allora allora so che c'è della controversia però però io ho goduto come un mandrillo veramente mi sono emozionato come un tenero bambino anche io uguale sì mi sono emozionato come Samantha Irvine fantastica anche lei con la voce spezzata e già Max arriva Victor per parlare del main event salve salve purtroppo non potevo prima di quest'ora salve salve ma si figuri siamo arrivati al main event che è comunque il momento migliore ma della notte 2 eh già 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 per me è stratitoso dai che gli devi di mi spiace è stato Victor ed è perfetto perché è stato cinema quel main event lì letteralmente cioè compreso per quanto riguarda non tutte le interferenze ma alcune soprattutto quelle che vedevano con il volto Seth Rollins è stato un po' un po' endgame io ho detto che secondo me Triple H un'occhiata alla Marvel la prima notte Infinity War la seconda ma l'avete vista anche la nuova signature la signatura è proprio Marvel Studios totale è bellissima a me dispiace a me dispiace per chi non lo ha apprezzato comunque ha provato a portare avanti la critica del non abbiamo visto le Bloodline Rules dove sono le regole della Bloodline Serenze e Cody hanno iniziato facendo un match senza squalifiche classico ma chi se ne frega le Bloodline Rules è quella roba lì la gente si aspettava davvero che ci fossero dei Bloodline volevano che comunque Raine si facesse accompagnare da famiglia e amici perché sì sarebbe stato quello il vantaggio ma chi se ne frega di nuovo è intambulato il wrestling allora cosa fai entra tutta la Bloodline ammazzano di cazzate non sarebbe più Roman Reigns baby gang vai a casa allora però diciamo che stiamo dando giustificazioni in smart in chiave Mark allora però adesso anche io finirò nello smart vabbè cerco di spiegare innanzitutto innanzitutto se applichiamo questo ragionamento al main event dovremmo farlo ogni qual volta c'è il match di un heal che ha degli alleati che aspettano il momento in cui lui sta perdendo platealmente per intervenire è chiaro se tua intenzione di vincere sporco in teoria dopo 30 secondi arriva l'altro ti fa vincere per squalifica tutte le volte ogni qual volta c'è una stable dovrebbe andare così il judgment day perché combatte perché difende le cinture di coppia entra Dominic in interferenza squalifica a casa avremmo gli il campione a vita in questo modo infatti è una è una sospensione dell'incredulità tipica del wrestling come l'arbitro che si distrae guardando le farfalle la 619 di Mysterio che dopo 30 anni se io combatto contro Ray mi spinge sulle corde cazzo la forza per togliermi di lì senza contatto che io ricordo che nessuno in nessun altro match cade mai in quel modo tra le corde quando c'è il Mysterio fatto così nel senso è una cosa normale io non escludo in fase di scrittura del match sia stato più semplice dire facciamole arrivare una alla volta più ordinato lo stesso ragionamento fatto anche per Bailey e YoSky perché il resto delle damage control non hanno accompagnato YoSky perché scrivevi meglio il match lo facevi sportivo e tranquillo e l'ho fatto bene detto questo se noi ripercorriamo il regno di Roman lui in ogni caso vuole sempre dimostrare la sua supremazia e gli alleati intervengono all'ultimo le regole ci sono state perché forse non si è capito ma quando arrivano Jimmy solo potevano farlo esatto non c'era interferenza l'arbitro è lì che li vede potevano farlo quindi probabilmente si sono accordati io voglio vincere ragazzi se poi va male ma entrate uno via l'altro via via esatto la puoi anche dire la puoi giustificare in quel modo tranquillamente io me la sono giustificata così poi a conti fatti vedendo quello che succede ma per una volta stessimo parlando perché c'è chi ha fatto il confronto con alcuni miei giudizi stessimo parlando di un intrattenimento dalla scrittura elaborata e raffinata ok ma quante cazzate ci sono nel wrestling questo 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 è il problema e l'ho già detto prima cioè allora ogni volta che c'è un il che è un alleato quello deve intervenire subito dai è il problema secondo me anche un po' di quando magari diventa cioè il wrestling ho notato che se ne inizia a parlare tipo ho fatto i video sull'esterminiera è arrivata la gente che ovviamente non conosce bene il wrestling quindi il punto è quello alcuni magari non hanno bene idea lo seguono da tre settimane ma anche io quando avevo iniziato a seguire molte cose non è che le avevo ben presente per l'amor di dio quindi è un po' quello cioè se uno si mette a fare ma scusa anche qua se non ci fossero stati gli ingrassi di Sina e Taker avevano vinto eh eh sì sì avevano vinto scusami io mi ricordo quando ho fatto la puntata di Natale che c'era quel il Miracle on the the 34th street il miracolo nella 34esima strada era un normalissimo street match gli avevano dato un titolo le Bloodline le Bloodline Rules sono sostanzialmente un modo creativo per definire quello che di fatto è stato un mezzo street fight uno di chi esatto non mi sembra io ti giuro quando ho detto Bloodline Rules io non mi sono chiesto neanche per un momento cosa fosse le Bloodline Rules ho pensato sarà uno street fight match con loro che intervengono intanto ma io capisco che sai cos'è è stato il promo di The Rock un po' a inficiare il tutto perché lui parlava di solo che ti canta l'inno uno al commento uno che fa l'arbitro quindi tu ti aspettavi che arrivassero e si distribuissero i ruoli lo comprendo in realtà no non ci ho pensato neanche io io invece in effetti me l'aspettavo però pensando al regno di Roman secondo me il comportamento è coerente ma poi ci sono ma poi ci sono perché l'ho appena detto no non è che ti deve aspettare una sceneggiatura ma ci sono delle finezze tipo la gestione di Rollins anch'io lì per lì ho detto ma questo è arrivato per prenderle e invece si gioca sulla psicologia sì a me ha fatto ridere perché in questa bestemenda le ha prese le ha prese dall'inizio alla fine poi c'è stata la finetta nel tag team match della notte 1 di Roman Reigns che tira la sediata Rollins invece Kakodi tutto quello che vuoi a me ha fatto pure per me Rollins l'hanno dico umiliato però non posso però la fine è come esce come una pedina importantissima lui si è sacrificato lui è stato come ha detto nelle puntate precedenti è stato lo scudo di Cody Rhodes lui consciamente era nel ring si è voltato sapendo che il tradimento dello Shield nel 2014 ha lasciato un trauma in Reigns che ancora non è guarito perfetto ma poi poi oltretutto il match contro Drew l'ha perso palesemente per il ginocchio che gli è stato incriccato la notte prima quindi è come se avesse perso tutto per stare a fianco di Cody Rhodes ci sta però mi ha fatto ridere perché ce l'ha preso veramente tantissimo quindi ma lì per lì anch'io ho detto madonna che figura se è troll a parte che sto leggendo di onestà intellettuale mi viene da ridere però anche il fatto che ci fosse Taker credo sia stato lo rimpiazzo di Stone Cold va bene però per me che sono un romantico e Taker è il mio wrestler preferito di tutti i tempi immaginarlo come uno spirito che veglia su Wrestlemania e quando c'è una roba che non gli piace questo appare mi fa godere che ci volete ha parlato esatto ha parlato di movimenti cinematografici a me ha fatto morire perché è diventato comedy mi ha fatto ridere che quando sono accesi le luci non c'erano più nessuna dei due è bellissimo è stato l'ha risucchiato in un bar risucchiato esatto in realtà poi c'è un match c'è un reel su Instagram di Taker che corre via poi se ci pensi in questo contesto The Rock dopo anche la performance che ha fatto la notte prima cioè essendo con la gimmick del final boss ci voleva qualcuno che a livello di gimmick fosse ancora più in alto per toglierlo di mezzo esatto è arrivato come se fosse il demone superiore che se l'ha portato via è bellissimo poi in realtà continuo continuo a credere che Undertaker sia stato un sostituto e che Austin per qualsiasi motivo gli abbia detto di no infatti io non so se siete d'accordo ma trovo che probabilmente ancora più azzeccato di Undertaker e anche di Austin forse in quel ruolo potevano metterci Triple H che ha avuto il rimando con The Rock nella conferenza stampa non sei tu a comandare sono io c'è il discorso aziendale quello l'avrebbe giustificato però lo so credo che non volessero far passare il messaggio che Cody vince grazie all'autorità è capito o forse Triple H rappresenta una posizione non può fare nulla l'intervenza più bella sì non può neanche far nulla lui certo vabbè ma credo che un pedigree possa farlo ragazzi non lo so comunque con un pacemaker lui ha avuto problemi di cuore non fisici ok ma non può non può fare una corsettina leggera non lo so non lo so non lo so mi sembra che abbia un fisico tutto sommato atletico ancora sì ancora sì però sai se è un pacemaker magari ok ma si parlava di una mossa sola cioè alla fine gli dai un calcettino quello si abbassa e gli fai spam o mi piace riscutare l'acqua stile green sì oppure l'intervenza più bella però non sarebbe sparito dalla ring capito invece doveva dissolversi doveva dissolversi l'intervenza più bella è stata quella degli uso che c'è stato un momento in cui ho detto boh sono finiti in un pozzo nero perché era tutto nero non si vedevano i tavoli io ho pensato questi si sono fatti malissimo anche io non hanno inquadrato subito il tavolo ho detto no l'hanno inquadrato ma era nero come c'era si vede che c'era poca luce c'era il telone nero scopra era tutto nero sì c'era il telone nero era tutto nero quando si sono buttati ho detto questi si sono ammazzati questi non hanno via io ho pensato addirittura che fossero caduti per sbaglio invece poi ho distritto ho detto ah ok mamma mia alla fine tornando a Triple H lui l'è entrata la sera prima se l'è fatta su quella rampa lì devo far qualcosa poi questa new era che dovremmo vedere un attimino in cosa si traduce questa nuova era di cui parla già comunque si è visto qualche slancio io l'aria di fresco la sento dal punto di vista registico che lui è sottolineato nella conferenza stampa si vede anche anche sentendo le interviste dei wrestler dicono che nel backstage c'è un'area completamente nuova molto più rilassata c'è un'attenzione boh non so da quanto seguite ma io vedere che i wrestler si ricordano delle alleanze delle rivalità mi fa dire oh cosa perché prima ogni mese il giorno prima ti stavi scannando con uno la sera dopo ti facevano il tag ma non solo anche il fatto che nel filmato a parte che parlando di regia i filmati promo prima di ogni incontro erano spettacolari ma il fatto che comunque abbiano palesemente fatto dei riferimenti al periodo a AW senza andare troppo nel dettaglio prima avrebbero rinnegato e fatto finta che questo non fosse mai successo invece comunque qualcosa qualche rimandino l'hanno messo anche lì nel promo quindi secondo me si vede che c'è qualcosina di diverso rispetto a quando era McMahon a tenere le fila di tutto un pochino si sta notando anche la regia del Raw post-Vestalmania è un'altra roba sono già due o tre settimane che Raw è stato poco prima in Vestalmania c'era stata quella puntata col piano sequenza che Dio mio non è una roba che si vede sempre quindi secondo me ci sta sono d'accordo vabbè la roba delle bloodline rules non è piaciuta mi spiace aver aperto il vaso di Pandora con il commento ma anche io ne avrei parlato anche io ne avrei parlato sì capisco però veramente io non la trovo una cosa problematica francamente ti giuro a me proprio non è neanche venuto in mente da chiedermi di cosa si trattasse perché ero sicuro non è che ero sicuro l'avevo proprio capito subito che sarebbe stato un normale match senza regole con ogni tanto un'interferenza della bloodline fine secondo me se guardi il wrestling da un po' lo capisci subito che non è che ti aspetti tutta la bloodline che ammazza Cody e perde è un nome a effetto per il match per dire che è senza squalifica fine basta cioè nel senso quando hai un match del genere davanti secondo me sono proprio caccolette queste qui aggrapparsi per trovare qualcosa che non va che poi per me è solo una cosa personale cioè non inficia la qualità del match ma poi non è stato solo il match per me è stato anche il dopo cioè sul palco Randy Orton gli altri che non c'entravano un cazzo lì ma si vedeva che erano sinceramente contenti per Cody con Samantha che quando l'ha annunciato aveva la voce rotta perché stava piangendo già mi è piaciuto vedere in un ambiente che sappiamo essere spesso difficile con tanta rivalità una contentezza disinteressata da parte di Vresta che non facevano parte di quella storyline a me è stupito quello ma aspettavo che salissero solo i diretti interessati quando ho visto Orton che comunque è uno sempre molto roccioso completamente fuori gimmick sorridente che abbraccia Cody Rossi un po' mi sono emozionato ne sta bene lì non era più il ring non era più il wrestling era proprio gli esseri umani che sono contenti per un amico a me è quella cosa piaciuta ma ragazzi ma allora queste critiche le ha fatte pure chi con wrestling ci lavora se qualcuno trova criticità non è pazzo io non ho mai detto neanche per un istante che si è pazzi io vi dico che ognuno ha i suoi metri di giudizio mi fa un po' sorridere se voi criticate questo main event da adesso in avanti lo ripeto ogni qualvolta c'è una stable deal con il match che finisce in squalifica e questi non intervengono dopo 30 secondi è da buttare è da buttare quindi tutto il regno di Roman rivalutatelo in negativo tutto perché ogni volta lui faceva un match regolare e solo quando stava perdendo arrivava al membro della bloodline a turno buttatelo via tutto i campioni nel wrestling ogni volta doveva vincere immediatamente i campioni nel wrestling hanno un vantaggio abnorme nei confronti degli sfidanti ossia possono mantenere i titoli per squalifica basta trovarsi un singolo alleato che appena suona il gong entra nel ring dà uno schiaffo all'avversario c'è la squalifica tu hai mantenuto senza neanche lottare purtroppo quando c'è c'è l'arbitro che sono arbitri che dovrebbero essere allenati addestrati dopo un po' che c'è c'è il manager fuori no aspetta rimango qui dieci minuti a dirti fuori 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 ma non vi siete mai chiesti ci sono alcuni casi in cui l'arbitro tipo viene colpito si risveglia e sul ring ci sono dieci persone ah va tutto bene conto ma ci sono mille esempi ragazzi è come dire che quando suona la musica di qualcuno allora nessuno dovrebbe più distrarsi perché tanto lo sanno che è una distrazione pensate anche a aspetta devo andare a salvare quello che stanno picchiando sul ring però aspetta regia mettete la mia team song esatto ma poi non è solo quello c'è una cosa che adesso vedo che fanno leggermente di meno ma soprattutto nel passato ti invito nel passato recente c'erano queste cose che a me facevano sempre trigger tantissimo tipo il face sta per schienare l'il l'arbitro fa pam uno due signor Posa se vuole poi poco dopo poco dopo alto schienamento bam 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 non è che sono rincoglioniti è che è proprio parte della scrittura poi leggendo il commento che metto in evidenza io ho detto che il problema è il promo di The Rock l'ho detto prima perché lui ha parlato in realtà per me non è un problema perché era io capisco ma non sono d'accordo però ha caricato ha parlato ha parlato di solo che canta l'inno ha parlato di quello che fa il commento quindi io l'ho letto come una battuta onestamente però è un'esagerazione io invece vi dico che quando ho visto arrivare Roman da solo mi sono abbastanza stupito detto questo me ne infischio poi posso posso dire qualcosa nel senso che ok possono esserci critiche del perché la blog non si sia presentata ma nel momento in cui questo main event funziona sul piano emozionale io da spettatore posso alzare le braccia e fregarmene di tutto quello che possa essere uno spirito critico una critica mi sono divertito come un matto vedendo questo main event e alla fine della fiera per il mio godimento personale dello show mi va benissimo sono contento così non toglierei nulla questo main event si può trovare una giustificazione ad ogni interferenza c'è un rimando a tutto praticamente c'è un finale con l'incoronazione di Cody che è bellissima che non ha nulla da invidiare a quelle di Bret Hart di Daniel Bryan di Eddie e Chris vent'anni prima a me va bene così non non me la sembra di andare a cercare oltre rimango veramente stupito nel sapere che qualcuno si aspettava solo che cantava l'inno e Jimmy come ring announcer ti giuro io lo metto con una palese battuta io vi dico in tutta onestà che me l'aspettavo ma non una battuta era un'esagerazione da Final Boss che dice ci prenderemo tutta Prestilemania faremo tutto noi e invece pensando anche magari a uno scenario da videogioco me li aspettavo tutti uno che faceva il ring announcer l'altro sai cosa è che diventava secondo me toglieva il focus tra lo scontro epico tra Cody e Roman secondo me è stato meglio è vero però ti potrebbero dire allora facevi un match senza squalifiche ed eravamo contenti come prima io ripeto per me è semplicemente una nomenclatura è però il nome che fa sì ma lo chiami così perché obiettivamente è il momento in cui la bloodline si riunisce per cercare di non essere scoppiata e non c'è tanto che può fare quello che gli pare è quello il discorso perché per la psicologia di Roman il tutto comunque ha senso e vanno gettati tutti gli altri match di conseguenza perché questa cosa che ha reso totalmente inutile il mini event la sera prima io non sono d'accordo non capisco come mai zero proprio ma zero veramente ognuno può pensarla come vuole ma io non quindi Endgame ha reso del tutto inutile Infinity War eh infatti no ma io non capisco proprio il motivo come mai lo avrebbe reso inutile non ci arrivo eh beh beh ti dobbiamo capire perché perché se queste rules non ci sono hai capito e poi in realtà l'hanno sfruttato perché ripeto se non c'erano Stina e Undertaker del tutto imprevisti avrebbero vinto esatto esatto le Bloodline Rules sono comunque qualsiasi come qualsiasi match no DQ una cosa che si può anche poi rovesciare a sfavore di chi le applica cioè ovviamente sono senza squalifiche per tutti e due quindi però però dai va bene se non ci fosse discussione sarebbe noioso sì ma io visto che non c'ero proprio al volo a voi è piaciuto cioè come l'avete presa la sconfitta di Gunther giusto per e allora probabilmente non l'avrei voluta ma sono riusciti a convincermi ecco sì 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 anche io uguale non l'avrei voluta sicuramente a me ha stupito perché ero talmente io io nel pronostico avevo detto che per me vinceva però l'ho detto più che altro per il cuore però non no ma sai perché perché l'hai detto anche perché se vediamo le puntate prima io l'ho detto però però non avevo una reale convinzione anch'io infatti alla fine ho detto Gunther però io ho mantenuto perché era quello che avrei voluto anche se cioè a me spiace perché il match a me è anche piaciuto onestamente però ovviamente è un buon match a cui manca la costruzione vera e propria perché l'abbiamo detto l'abbiamo detto avrebbe meritato anche se come ho sottolineato in realtà Sam era abbastanza costruito perché era da almeno due mesi che e le interviste con lo stadio vuoto palazzetto vuoto anzi lui che cerca riscatto è più la storia con Gable essere frettolosa sì che ti ha fatto in una puntata in una puntata ti ha fatto il filmatino d'allenamento anche bello sempre parlando della questione di regia però io avrei voluto vedere il confrontino a Raw un po' mi è mancato quello mi sarebbe piaciuto vedere Gunther che gli dice qualcosa non lo so un confronto col neocampione arriverà però me l'aspettavo subito sì oddio niente comunque in chat pure regge la questione della bloodline ma mi sembra che abbiamo detto tutto alla fine rischiamo di essere dettivi mi dispiace ognuno rimane con la sua idea e basta sì esatto credo non ci sarà modo di convincere negli uni negli altri siamo d'accordo sul fatto di non essere d'accordo infatti infatti sti cazzi non è che dobbiamo essere tutti d'accordo i confronti non servono per convincere una delle due parti della ragione dell'altra secondo me abbiamo esposto le nostre idee tra l'altro non pensavo fossimo tutti allineati e secondo me abbiamo anche risposto ai singoli punti poi magari non siamo stati convincenti ma non possiamo andare avanti un altro quarto d'ora a dire ma perché qual è stato il vantaggio e ve lo guardate lo ripeto un'ultima volta avrebbero vinto continuate a dire avrebbero vinto regolarmente regolarmente avrebbero vinto poi è sempre bello darsi un tono da dibattito quando stiamo parlando di restring nel senso stessimo discutendo di argomenti sociopolitici importanti stiamo parlando di umore spesso c'è molta più passione allora è uno sport nello sport è sempre così ma poi guarda per esperienza Max ci si scanna sul cinema che voglio dire sul restring ma quando si tratta di sport ci si scanna peggio che su qualunque altro ma va bene ma va bene infatti io preferisco di gran lunga arrivare a discutere anche in maniera esagerata di pancia per argomenti frivoli piuttosto che per argomenti importanti dove lì preferisco batteri in ritirata perché onestamente di mettere a discutere di politica con sconosciuti anche no sono d'accordo con te ragazzi scusate io devo scappare che ho la mia live tra poco ci vediamo venerdì prossimo sempre a luna sì sì no alle due probabilmente anche venerdì prossimo a luna sì è molto probabile è molto probabile ciao 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 e poi ultima risposta anche in questo caso magari nell'ultimo quarto d'ora leggiamo qualche domanda anche se mi sembra che siamo focalizzati lì Roman ha vinto un vantaggio che finora ha avuto in realtà per le regole del wrestling no perché tutte le altre volte doveva vincere sperando nell'arbitro distratto nella squalifica qui avrebbe vinto pulito perché poteva far tutto e ad un certo punto fanno tutto a quanti fatti ma visto che penso siamo adesso a chiuso l'evole a fare una domanda non so se ne avete parlato non c'entra propriamente con questa media ma avete visto la cosa dei young bucks in AEW sì 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 posso dire una posso dire una la dobbiamo spiegare magari per chi non segue l'AEW ma molto semplicemente punk in conferenza stampa ha detto che Tony Khan non è un buon capo lo ha un po' triggerato così parlando delle sue esperienze di AEW e Tony Khan per risposta nella scorsa puntata di Dynamite di mercoledì si trova la clip anche su YouTube se volete vedere solo quel pezzo ha detto ha orchestrato che gli young bucks parlando del loro match a Dynasty che è il prossimo pay per view tra una settimana della dell'AEW dovranno rincontrare in un match gli FTR che li avevano battuti a All In dove era successo il famoso caso di Punk che aveva messo in pericolo la vita di Tony Khan stando alle dichiarazioni del di 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 Tony Khan e allora hanno mostrato il film up il footage in esclusiva del momento dello scontro tra CM Punk e Jack Perry Jack Perry ora posso dire che secondo me si è tirato una zappa si più incredibile perché c'era parlato di schermi che volavano sembrava che Punk avesse messo quattro braccia tipo Tenzing e avesse picchiato tutti in realtà il filmato è lui che arriva fa brutto a Jack Perry lo spintone e poi se ne va no è molto peggio il fatto è che le immagini mostrate dall'AEW danno ragione a CM Punk è esattamente quello che ha descritto sì perché lui diceva ok io mi sono comportato male sono andato a livello spintonato invece si parlava di lui che aveva sradicato addirittura un LED wall dalla parete Tony Khan ha detto che si è sentito in pericolo io non ho visto nessuno in pericolo di vita tra le Jack Perry che si stava per prendere un cazzotto che è comunque un comportamento di merda però secondo me con questo footage secondo me si è tirato a zappa sui piedi perché risulta che le cose dette prima sono delle cazzate ma no io vi dico che lì nel palazzetto sono iniziati i cori per CM Punk c'era Tony Schivani che come leggo in chat veramente ha avuto i deja vu della WCW di Vince Russo Hogan porca vacca per me c'è chi dice è finita la IW con questa roba finita non lo so però è stato un autogol clamoroso no ma poi sai cosa è proprio il discorso del sei il capo CM Punk ha detto questa cosa benissimo agisci da capo in WWE una cosa così smaccata forse adesso magari in passato sì ma adesso magari non l'avrebbero fatta avrebbero fatto qualcos'altro così smaccata c'è stato un altro siparietto la stessa sera perché che periodo AAA ci è stato intervistato da Pat McAfee mi pare sì non ha fatto nomi ma ha parlato di di un wrestler a quanto pare che non è riuscito a mettere sotto contratto e provocatoriamente ha fatto intendere che questo atleta non abbia accettato perché non aveva voglia di di impegnarsi di sacrificare parte del suo tempo e molti hanno letto l'accusa implicita a Will Ospreay che nella stessa puntata del filmato di CM Punk a un certo punto prende il microfono e si rivolge a Triple H dicendo che lui invece si è fatto un mazzo tanto a differenza sua che si è scopato la figlia del boss per arrivare dov'è e questa per me è una roba diversa nel senso che all'interno del wrestling delle provocazioni simili ma vanno però però un conto è una provocazione un conto è cercare di gettare quello mettendo il filmato ma infatti ma infatti Ospreay è stato tifato dopo questa provocazione no perché comunque è un dissing è un dissing la roba del filmato è un'altra roba ma tra l'altro ma è legale non credo che si possa fare in teoria non sono convinto perché comunque sono immagini loro è un evento loro quando punk era ancora sotto contratto magari possono farlo però secondo me qua non è una questione di possono non possono anche potendo è che stupido Tony Khan è lo stesso che dice oh chissà come è stato per Undertaker comprare uno show con meno di 400.000 visualizzazioni con 400.000 spettatori che l'han guardato non dirle ste cose perché poi giustamente la gente fa sì è la puntata che è andata in onda contemporaneamente ne ha fatte quante ma quindi era la puntata del debutto vero e proprio di Edge di Copeland e hanno detto e allora Adam Copeland cosa dovrebbe dire e io dico cazzo ma prova a prevedere quali sono le risposte che ti possono dare cioè non è quando c'è punk alla fine cosa ha detto di male sapete che io non ho grande simpatia per punk e comunque quello che ha fatto è sbagliato cioè quello che ha fatto in quel video è sbagliato perché qualcuno ha detto dovremmo chiedere tutti scusa a punk no perché punk ha sbagliato però è stata gonfiata molto perché se non ci sono altre immagini e Cannes dice ho rischiato la vita non ho mai avuto un momento del genere è andato dritto su Jack Perry non se l'ha presa con nessun altro quindi in che modo Tony Khan dovrebbe rischiare esattamente come l'ha raccontata è esattamente come l'ha raccontata punk sì sì non capisco proprio l'intento dell'AiW voler mettere in discussione le parole di di CM Punk cercare di screditarlo ma è esattamente quello che ha raccontato non un fatto edificante però è quello che è successo no perché se è così ha sbagliato però nel senso mi sembra un litigio normale c'è anche un controsenso perché io non seguo l'AiW però su sta faccenda mi sono informato ma gli young bucks in teoria sono gli ill sì loro stanno giustificando una loro sconfitta per colpa di quello che ha fatto CM Punk quindi dal punto di vista del pubblico Mark loro stanno dicendo una stronzata e in effetti se tu vedi il filmato psicologicamente se tu vedi il filmato quello che fa Punk ti sembra di poco conto perché loro stanno dicendo è stata quella roba lì che ci ha distratti dal match poi vedi quello che succede e ancora di più ti viene da dire ah ma quindi tutto qui c'era sta roba qui quando hai finito il filmato ti ho detto io ho pensato ma quindi cioè nel senso è un tizio incazzato che ne spinge un altro che si spaventa e va a rifugiarsi sì poi gli fa tipo una mezza presa sì però io mi aspettavo un Punk che aggrediva anche quelli che proteggevano Perry invece quando hai visto che Perry è andato dalle gonnelle degli altri ha detto andatevi una fancura e se ne è andato non è una cosa edificante è una cosa sicuramente da bullo e sbagliata perché tu non vai nello spogliatoio a cercare di usare uno perché ti ha detto una mezza frase di traverso perché per quanto uno possa dirti una cosa che ti dà fastidio non puoi alzare le mani ed è sbagliato però cazzo sembrava a sentire quello che c'era sembrava che che Punk a momenti avessi tirato fuori la spada e avessi cercato di mozzare la testa a Tony Khan lui ha detto in conferenza stampa io non ho mai avuto così paura per la mia vita ma se non ti è neanche avvicinato paura di che cosa io mi aspettavo che avesse tipo fatto così a Tony Khan che stava per menare non si è neanche avvicinato che cazzo ha rischiato la vita è un cazzaro questo uomo però scusami a questo punto secondo me fa una brutta figura lui più che Punk da questo filmato non lo so l'ho trovata una roba antiprofessionale dei livelli quasi inimmaginabili però sì anche io mi aspetto alla reazione di Drew se sono intelligenti Drew deve tirare fuori un filmato finto ah sì no ma tra l'altro tra l'altro anche Punk che fanno un suo costo cioè se Punk a resta mia se lo sono giocati benissimo soprattutto ma anche a Raw della notte dopo io quell'anno io quell'anno me l'aspettavo minimamente io mi aspettavo che vincesse e che invece no invece no per me lo vogliono mettere un attimo in pausa sì 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 infatti però che perdesse così perché c'era Punk ancora quindi lo tirava no poi tra l'altro nel gruppo quello che ho io tipo quando è iniziata la seconda notte qualcuno ha detto ma perché Punk ha il tutore se durante le interviste della giornata non l'ha mai messo subito tutti a dire ma puzza perché il tutore e in effetti poi era era la pinta quindi ci stava se la sono giocata bene io ho bestemmiato perché mi è dispiaciuto però in ottica spettacolo e anche a me però in ottica spettacolo più che altro io non mi sarei mai cioè onestamente io ormai era questo incasso di prista io lo vedevo come fallito cioè non avevo neanche l'idea che potesse farlo quando la però mi fa piacere perché onestamente essendo tutto molto scontato predeterminato quando ci sono le sorprese come anche la vittoria di Sami Zayn a me fa piacere perché una cosa che accuso ogni tanto nel wrestling è quando proprio non hai sorprese perché è tutto assolutamente già chiaro quando ci sono questi colpi di coda magari a volte non sono fatti benissimo in questo caso secondo me se la sono venduta bene onestamente sì d'accordo magari ultima domandina perché stanno già arrivando alle 15 eh sì non credo che la WWE abbia il ben che minimo interesse nel comprare la AEW al limite si fanno fuori da soli ragazzi posto che a quanto pare ha soldi che gli escono da tutte le tasche sì infatti Can su Twitter era tutto contento che la puntata è andata molto meglio di quella settimana prima sì è una roba chissà perché il punto è è ovvio che la gente te la guarda però io questa cosa io non sono molto d'accordo con l'idea che la cattiva pubblicità non esiste perché sì la gente la guarda ma che figura di merda hai fatto vado a dire anche perché Tony Khan si basa spesso e volentieri sulle votazioni dei fan su Cage Match e la puntata con il filmato di Punk è stata distrutta dai fan ha ricevuto valutazioni bassissime quindi va a crollare anche il suo unico appiglio Cage Match con i voti dei fan quindi per dire ah c'è anche la situazione a me con sto finale è passato che Cody per poter vincere contro un avversario forte ha bisogno di aiuto da chiunque ragazzi a livello di interferenze e di colpi subiti da entrambi sono stati di un equilibrio ma voi avete visto quante robe ha preso Cody quanto ha subito Cody dalle interferenze Roman ha avuto un'attitude adjustment basta basta ma poi scusate soltanto guardare l'incontro dell'anno scorso se non fosse stato per solo Cody avrebbe vinto però perdonate ma perché questo perché questo discorso non l'ho fatto anche per Roman cioè le interferenze che hanno aiutato Cody erano per togliere gli interferenze da parte della bloodline e si quindi ma che tra l'altro la prima esperienza arriva la prima interferenza arriva quando Cody sta vincendo ragazzi sta vincendo però nel senso perché perché le interferenze che servivano a salvare Cody vanno a sfavore di Cody ma le interferenze da bloodline non vanno a sfavore di Roman io capisco che magari vi sareste aspettati una roba diversa e ripeto anche io effettivamente pensavo che avrebbero attaccato in altro modo però ragazzi il racconto sul ring è da vedere Cody fa una figura incredibile incredibile tra l'altro c'è stato un momento di aver fatto addirittura due volte mi sembra avrebbe vinto senza le interferenze due mi pare due ha pure resistito alla combo Spear Samoa Spike sì ma poi i primi 20 minuti erano praticamente tutte finish se ne prese 40 sul coppino cioè anche nell'ottica della predeterminazione quello che volete è stato un match difficilissimo per loro due cazzo valutandolo come se fosse un combattimento reale e Cody ha resistito a tutto avrebbe vinto in più occasioni e lo stesso modo avrebbe vinto già l'anno scorso se non fosse stato per solo è già da un anno che Cody si era dimostrato superiore a Roma sì 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 anche dopo l'interferenza avrei fatto un mini match di 5 minuti ma si erano smontati ragazzi e avresti il tempo di un stato ok che il main event della sera prima è durato 44 minuti però non è durato poco anche quello della notte 2 nel senso sono arrivati alla mezz'ora quindi aggiungerci 5 minuti in più non credo che potesse aggiungere chissà cosa al dramma avresti anche sacrificato l'intervento di Rollins in realtà il vero eroe di West Hamania si dirige su di lui e perde Cody per un momento ma dai ma dai il vero eroe di West Hamania è stato I Shultz P che si è preso l'erchio sul tavolo da rendita madonna io gli volevo stringere la mano ma mi sa che non può più stringere mani adesso ma anche la spinta la spinta iniziale quanto è volato no ma più che altro più che altro nel senso sai un conto è un altro wrestler un ragazzetto che è uno streamer cioè capisco ripeto capisco che è tutto fatto a posta però sì ma se fanno comunque a me un ar che io mi dovete venire a trovare Gaetano Pini perché sono immobilizzato per un mese ci ripeto nel senso ci vuole anche il fisico anche col costume imbottito comunque va bene che il tavolo è di cartone cioè a me ha fatto ridere anche nella prima sera del ladder match che a un certo punto si è vista la scala che è praticamente di marzapane quando si è aperta e si vedeva che c'era la schiuma dentro a me quando si svelano i trucchetti cioè lo sai però mi fa ridere perché effettivamente sono scale che sposti no 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 però mi ha fatto ridere che si è aperta mi chiamano proprio di fatto di alluminio sottilissimo con le beh ma è giusto è un miracolo che non si ammazzino a salire praticamente sì quello che mi stupisce è che riescano a usarle come delle scale vere a me stupisce quello perché come armi vanno benissimo come armi di scena come scale vere non lo so deve essere più curioso sì sì va bene dai capisco che alcuni avrebbero voluto la vittoria di Roman ma non è andata così io continuo a pensare che per me credere fermamente che Roman avrebbe vinto era follia era antilogico in una maniera ma un sacco di gente vedrai vedrai no non vedrai cioè il punto è se succede hai buttato via me ma neanche mesi anni di costruzione non ha senso eh lo so boh infatti non ha perso ma il discorso di prima è bello viverlo con trasporto e tifare i propri beniamini anche contro i pronostici altrui le circostanze va bene sono sicuro che la sezione commenti sarà molto calda probabile mancava solo dire che l'Aknight fa schifo no cacchio adesso ci saranno anche commenti su l'Aknight ne hai parlato bene ne hai parlato bene eh lo so però non è stato male quel match per quanto a me non piace l'Aknight sorpresa del weekend sorpresa del weekend mi è piaciuto molto anche Paul eccetera scusa sì sì ne abbiamo parlato prima sì 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 mi piace che sei arrivato a tardi intanto poi ci saranno settimana prossima vediamo i risultati del quizone quindi un ulteriore ah non li avete visto perfetto no 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 per tornarci sopra e riparlarne saluto e ringrazio Max no grazie a voi per l'invito e di nuovo mi spiace aver aperto il vaso di Pandora avendo azzardato possibili critiche al main event mea colpa mi assumo ogni responsabilità l'avrei fatto anch'io non ti preoccupare salute e ringrazio Victor grazie grazie mi spiace per il ritardo però alla fine se ne hai parlato parecchio per cui ottimo sì sì sono contento è vera prevedibile ci vediamo venerdì prossimo ripeto al 99% di nuovo all'una per la puntata con il quizone e poi vediamo cosa sta succedendo adesso quali sono le nuove storyline i nuovi agganci il draft che si avvicina bella Peppa ciao a tutti ciao 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 ciao